Outlook, Flexcom Network e Flex Hobby. I cobi sono per la precisazione i retail shop, quindi i negozianti, ristoranti, palestre, hotel, negozi di scarpe, di abbigliamento, panettiere, il benzinaio, chi più ne ha più ne metta, che aderiranno a questa iniziativa Flexcom, quindi aderendo riceveranno un POS, un terminale simile a quello del pagamento con carta di credito, ma sarà un terminale specifico per la carta Flexcom, che ripetiamo non è una carta di credito, ma è una carta sconto, e quindi aderendo a questo circuito avranno la possibilità di offrire ai loro clienti uno sconto che loro decideranno, quindi il negoziante deciderà. Questo cosa porta al negoziante? Il principale obiettivo di Flexcom è quello di portare al negoziante, quindi al piccolo negozio, le possibilità che fino ad oggi sono state solo per le grandi aziende, per le grandi supermercati e grandi shop. E vediamo anche dopo come farà questa cosa. Ma il concetto è quello di stimolare i guadagni, quindi stimolare l'attività del piccolo negoziante, facendo come? Dandogli la possibilità di fidelizzare i propri clienti, quindi concedendo sia ai migliori clienti, o a decisione del negoziante questa carta sconto, facendo questo intensifica appunto la sua possibilità di fidelizzazione del cliente, scusate il gioco di parole che mi sto un po' ripetendo, e in più la possibilità di fidelizzare i propri clienti,